Era proprio la boccuccia di una cortigiana che di fronte alla presenza maschile fa la cilettuola. E' così. A me dispiaceva, diceva, ma come se una donna non solo emancipata, colta, hai fatto dei testi sul tasso, hai una biblioteca favolosa, e perché qualsiasi paio di calzoni deve essere accolto a casa tua? Forse questo faceva parte della professione di attrice, dovrebbe essere almeno delle attrici di una volta. Sì, di attrici di vecchi tempi, nei telefoni bianchi. Infatti una domanda che le vorrei fare, delle tante cose che è stata questa donna meravigliosa, perché un'attrice, un'intellettuale, un'artista, anche un'ispiratrice, insomma, qual è la descrizione che ne darebbe lei per prima cosa? Chi era Elsa de Giorgi? Io ho cercato sempre di difenderla, anche perché lei mi ha detto, Adele, io confido in te perché il mio nome non si perda. E in effetti quando gli ho scritto la mia autobiografia di giornalista, nove dimissioni e mezzo, c'è un pezzo in cui ascolto Elsa che mi dice e adesso, lo sai, ti racconto un mio segreto, sono andata a ritrovare il portiere della casa di Porto Santo Stefano che avevamo insieme con Italo, del nostro nido. E allora qual è l'aspetto principale di questa donna, per ricordarla? Era prima di tutto un'attrice, era prima di tutto un intellettuale, una scrittrice? Era una donna molto generosa, perché lo posso dimostrare in prima persona, perché io quando vedi che andava ad ospedaletti tenendo per mano un ragazzo che non sapevo chi fosse, e in bichini lei, 43enne, e io invece in costume sobrio a 25 anni, quando vedi questa scena e scrisse un pezzo molto irriverente in cui raccontavo questa scena del ragazzo e di una 43enne che non aveva paura di indossare i bichini. E ho sempre sperato che lei non l'avesse detto. Tanti anni dopo, ad un'anteprima cinematografica al Capranichetta, vedo Elsa De Giorgi, imponente, con collo di volpe argentata e mantello di velluto rosso, che mi punta, io cerco di nascondermi, lei invece viene diretta e dice «E lei ha delle candria?» Io dico «Sì, sa che io sono nella giuria del premio teatrale Fondi la Pastore, organizzata da Purificato, e sono l'unica donna e mi sto battendo perché si è premiato il suo testo su Marx, in principio era Marx, e così fu». E questo ragazzo che portava per mano chi era? Era Calvino. Italo Calvino. Quindi questa è la prima immagine, il primo ricordo. Era il 57. Era il 57, è questa scena sulla spiaggia di questa bellissima donna, però di una certa età, già oltre quarantenne, in bichini che portava per mano Italo Calvino. Io non sapevo neanche che Calvino fosse uno scrittore, che si chiamasse Calvino. Mi diede l'informazione il proprietario dello stabilimento, che mi disse, ho detto «Ma chi è quel signore?» e lui mi disse «Ah, è una diva del cinema fascista, si chiama Elsa Di Giogli, e quel ragazzo è uno scrittore, Italo Calvino». E così ebbe le mie informazioni e scrissi un cattivissimo pezzo. Che ti ho trovato? La vera provinciale arrivata da Reggio Calabria dove, al Lido di Reggio, dove avevamo la cabina, passeggiavano due poveri carabinieri in divisa di panno verde, con la temperatura di Reggio Calabria a luglio, e con il fucile 91 che facevano le multe alle signore con i bichini. A Ospedaletti c'era un'altra aria. Sì, a Ospedaletti. Un'altra domanda che volevo fare. Poi siete diventate amiche. Sì, certo. Io l'ho ringraziata moltissimo perché col Max siamo andati perfino in Svezia, all'Istituto Italiano di Cultura. Eravamo in nove perché tutta la troupe la scenografia era di Alice Mauaz che fece un Max Giano Brifont da una parte lo stupratore delle serve e dall'altra il grande ideologo della rivoluzione. E quindi con quello arriviamo a fare la tournée anche... Ma di che era fatta questa amicizia? Era più intellettuale? Più di confidenza? Com'era come amica? Per esempio, era diventata amica anche del gruppo delle nemesiache che io le avevo presentato. Cioè... Siamo in pieno femminismo quindi? Siamo in pieno femminismo, sì. e quindi non si era scandalizzata. Poi dopo aveva cominciato a criticare Lina, poverina che è morta prima di lei o subito dopo, era giovane, perché vestiva punk con le borche come una nazista, col beretto e così via. Lei queste cose non le sopportava perché lei esordì con un libro di Coetanei che fu tradotto in Europa proprio raccontando a Cinecittà tutti si fermano il 10 giugno per sentire il discorso di Mussolini che annuncia la guerra. e quindi lei aveva un gerarca come corteggiatore che per fortuna aveva subito mandato in Africa quindi non l'ha compromessa. Lei poi durante l'occupazione tedesca lasciò la casa dei Parioli ad amici in pericolo e andava di alberguccio in alberguccio a Roma. Quindi non si può dire che ha fatto la resistenza ma sicuramente ha aiutato gli intellettuali in pericolo a nascondersi gli ebrei e così via. È stata una donna sempre molto generosa. Qual è il giudizio di Adele Cambria su Elsa De Giorgi scrittrice? Non mi permetterei mai di avere un giudizio su Elsa De Giorgi scrittrice. I suoi libri mi sono sempre piaciuti. e ricordo la perfiglia di Elsa Morante di cui pure ero amica che mentre tornevamo io l'accompagnavo a Via del Babuino perché ormai non stava più con Moravia a Via del Loca. Moravia aveva regalato questo delizioso appartamentino. Al Babuino si è fermata e mi ha detto Adele ma tu non prenderai l'LSD. era il periodo in cui tutti prendevano l'LSD e io risposi ma io non digerisco niente neanche la frittura di animelle e vuoi che mi rovini lo stomaco con l'LSD. No, te lo dicevo perché se lo prendi per diventare scrittrice sei una stupida. Tu sei una gazzettiera. Ma che c'entra con Elsa De Giorgi questo? A proposito di Elsa. A proposito di Elsa? Ma Elsa Morante aveva un giudizio cattivo su Elsa De Giorgi? O no? Sì, sì. Ah sì? Ed era molto puritana Elsa Morante quindi non voleva mai e deplorava va bene ormai lei era divorziata divorziata mai perché non ha dato il divorzio a Moravia comunque lei non veniva mai alle feste di Elsa perché trovava una mondanità deprecabile e poi si chiamava aveva questo peccato di chiamarsi Elsa che lei quindi fesse e comunque questi libri di Elsa De Giorgi sono stati anche molto apprezzati dalla critica lo stesso Italo Calvino forse si è innamorato di Elsa De Giorgi leggendo ma il primo libro il primo romanzo è uscito in Francia in una versione francese prima che italiana e si chiamava L'Innoissance dopo è stato pubblicato e si chiamava L'Innoissance